Ciao a tutti ragazzi, io mi sono Tasei, questo video è molto piccolo per informarvi che adesso alle 18 è iniziato la seconda parte del torneo, o comunque il secondo giorno del torneo in cui si prenderanno i nomi per i quarti finalisti. Trovate in descrizione tutto ciò che vi serve e quindi ragazzi venite e giunate con noi. A dopo!